nuovo amore per la speaker radiofonica ex vincitrice del grande fratello vip dopo la fine della breve liaison con il recomi novità nella vita privata di paola di benedetto stando a quanto spiffera the people l'ex madre natura di ciao darwin starebbe frequentando il tennista matteo berrettini una coppia davvero inaspettata seppur bellissima esteticamente sicuramente in grado di regalare tante sorprese stando alle prime informazioni pare che questa presunta storia d'amore sia nata grazie ai social network dopo un primo incontro reale i due avrebbero iniziato a frequentarsi nonostante i numerosi impegni di lavoro di entrambi e la di benedetto avrebbe raggiunto anche berrettini a firenze dove lo sportivo è stato impegnato di recente con un torneo per ora nessuna conferma ma neppure nessuna smentita è arrivata da parte dei diretti interessati il seguireciproco su instagram è però ben chiaro ed evidente sia paola sia berrettini sono single da qualche tempo la scorsa estate la di benedetto ha frequentato il cantante nuovo giudice di x factor e recomi ma il flirt è durato giusto un paio di settimane si è poi parlato di un interesse mai confermato da parte di blanco nei confronti dell'ex vincitrice del grande fratello vip l'ultima love story importante di paola di benedetto resta quello con federico rossi il cantante del duo benji e fede si sono amati per un paio d'anni e dopo una convivenza ben avviata si sono mollati nel passato amoroso di paola di benedetto una breve relazione con francesco monte nata all'isola dei famosi e una lunga storia durata quattro anni con il difensore del prato ed ex concorrente del grande fratello di barbara d'urso matteo gentili con fratello di barbara d'urso note da un nuovo giudice del mondo e le vecchia d'un nuovo giudice del mondo con fratello di carri e le vecchia d'un nuovo giudice del mondo Grazie a tutti. Grazie a tutti.